L'anno appena trascorso ha presentato non poche criticità per la nostra comunità, ma grazie al lavoro coordinato delle diverse amministrazioni e forze dell'ordine, come sottolinea il prefetto Mariano Savastano, molteplici sono stati gli obiettivi raggiunti. È stato un anno a dir poco complesso, innanzitutto mi viene in mente la guerra nel cuore dell'Europa, anche la provincia di Belluno ha colto 3.500 e oltre ucraini e tutto quello che ne è conseguito, il rincaro dei prezzi, la carenza di materie prime, l'inflazione. Non dimentichiamo anche l'emergenza migranti e siamo riusciti a dare loro accoglienza. Un'altra iniziativa importante è quella di aver coinvolto tutti i sindaci in un'attività di monitoraggio. Ci siamo preoccupati di accertare che ogni Unione Montana, ogni parte del territorio, avesse una sala operativa. Cosa importantissima, abbiamo avviato i lavori per la costruzione del nuovo CCS. Tra le diverse problematiche non si possono dimenticare gli episodi di inciviltà e violenza ad opera delle cosiddette baby gang. Siamo intervenuti anche grazie al piano coordinato di controllo del territorio, anche grazie al sistema di videosorveglianza. I responsabili in tutti gli episodi che ho citato sono stati individuati. Veramente tante problematiche che ci hanno provato, ma siamo stati uniti. E quindi devo ringraziare i bellunesi, le amministrazioni comunali, sanitarie, le forze di polizia. L'augurio è che questo clima che insieme siamo riusciti a creare sia mantenuto fermo, anzi che le nostre energie possano essere moltiplicate positivamente.